bravi molto bravi ragazzi sono il vostro dal caso 92 e vi parlo di una cosa molto importante che sono davvero 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 nervoso di questa cosa purtroppo questo video non sarà editato ma sarà direttamente pubblicato dopo averlo finito ovviamente perché vi spiego subito il motivo per la quale io sono molto 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 nervoso incavolato allora ha da tre giorni che io non posso soffrire di internet perché la signora tim ma come se così la vogliamo definire ha dei problemi e allora ci sono dei problemi e questi problemi derivano da io non so se lo potete vedere mai anzi ve lo faccio vedere direttamente così guardate questo è il mio stato del modem in questo momento ok aspettate un attimo ve lo metto bene che così tutte le luci lampeggiano e quella lì di internet è rossa fissa da tre santi giorni ok ragazzi tre santi giorni che non sistemano questo problema pur chiamando pur facendo solleciti e continuando a farli la team non sistema il mio problema pertanto mi sono molto incavolato e ho chiamato ripetutamente la team dicendo scusate io pago internet ho pagato l'ultimo bollettino da poco e per giunto ho pagato pure prima della scadenza molto prima e cosa cosa state facendo niente niente perché il mio modem è fermo lì immobile con il palino rosso dalla parte ovviamente di internet internet è rosso e tutti gli altri che lampeggiano così da tre giorni e non posso soffrire della linea per giunta ragazzi ho detto no perché di norma io quando chiamo dico sempre guardate io ci lavoro con internet perché lavoro su youtube ma lavoro su youtube è un come si dice una forma casuale di quello che gli dico nel senso che io dico apposta per aumentare no che che loro sistemano subito il problema e c'è stato un signore che mi ha detto tu non dovresti neanche dire che lavori con una linea di casa e quindi che che prende dei soldi con una linea di casa dovrebbe essere business non è business ma se l'ho sempre detto nel suo nome detto niente del primo aveva tralasciando quello ragazzi c'è io sono da tre giorni senza linea internet ragazzi hanno fatto anche qui lavori vedete questa striscia bianca e anche di qua questi sono tutti i lavori che hanno fatto infatti la mia stanza era proprio vuota abbiamo sistema della stanza io mia madre abbiamo sistemato tutto ed era praticamente un giorno e mezzo quindi per un giorno e mezzo vi avevo caricato il video appunto che avevate visto della reaction dei fail e tappetando il giorno dopo anche se aspetto mezza giornata poi la sera al massimo faccio una live verso tranquillo così no invece ieri non c'è stato niente nel canale oggi non so neanche cosa devo fare oggi metterò questo video sperando che riuscirò a parlo perché come potete sapere ragazzi io non posso fare i video perché non avendo la linea però ho la linea del telefono di mia madre che è in 3g pensate un po quindi dovrei caricarla con quello il video e non so neanche se riuscirò a caricarlo questo video quindi per farvi capire grazie team che sono sempre ritardatari tu paghi i bollettini i bollettini postali appunto prima di quanto li dovresti pagare e invece al posto di sistemare il problema subito lo sistemano lo sistemano ancora non hanno sistemato tre giorni ragazzi sono passati cioè oggi giorno 17 io questo problema ce l'ho precisamente ve lo dico subito quello guardo dal pc ce l'ho precisamente da dal 15 io il problema è iniziato il 15 di mattina il 16 e oggi il 17 e non si sa neanche se si riuscirà a sistemare perché nella segnalazione c'è scritto che entro oggi sistemeranno il problema entro stasera alle 11 pensate un po quindi se sistemeranno il problema entro stasera alle 11 o domani farò una live sperando che lo sistemano ma comunque ragazzi vi invito a non mettere la team a casa vostra perché fin quando funziona potete stare tranquilli ma quando non funziona e hanno un problema ciao ciao ragazzi altro che uno due giorni o meno entro 24 ore 48 ore qua fanno passare più di tre giorni ragazzi fanno passare più di tre giorni io vi voglio bene scusatemi per questa inattività nel canale però veramente la team mi sta sopra non si dicono le parolacce quindi vi voglio bene ragazzi spero che questo video vi faccia capire determinate cose quindi non mettetevi la team raga mettetevi wind mettetevi qualunque altra linea linea dsl ma non mettetevi la team raga perché io sì mi trovo bene ma nello stesso momento quando ci sono problemi mi sono sempre trovato male sempre e questo ve lo posso assicurare un bacione dal vostro darkhouse 92 noi ci vediamo speriamo il prima possibile voglio bene ragazzi bella